guarda che mi voglio guarda che mi voglio che c'è da tagliare qualcosa ho una M M Sì, qui, 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 qui Rami Rami, tu è Rami ma Rami perché si deve aiutare in questa roba? Rami 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 E' spalle questa roba, va bene. Vai, vai, vai. Non si sta... Che cazzo avete messo qua? Non lo so. Manca una R, potiamo. I? Guarda! Non lo so fino a lì per niente. Rami. Guarda! 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 Guarda!